terza corsa premio Texel è un doppio chilometro per anziani di categoria G l'unica corsa del pomeriggio programmata sulla distanza dei 2.100 metri cinque al Viedo per il tiro di Pretty Woman Room numero cinque con l'uno number one Italia Giampaolo Minnucci, il duologramma Luigi Colso, il tre Popolo Babba Alessandro Rezzo, quattro Rustico Jet, Francesco Pettinari, sei Penelope S, Antonio Storti, sette Painkiller va Romolo Sani, rinuncia al lancio come sempre Popolo Babba mentre cercano di emergere Rustico Jet e Penelope S che allo stacco della macchina sono in vantaggio nei confronti di number one Italia con Rustico Jet all'interno che replica Penelope S e l'avversario si accoda nella sua scia precedendo number one Italia poi ologramma quindi ancora Painkiller va e Popolo Babba Sestetto in fila indiana questi 200 metri in 15 e 3 con Popolo Babba che al termine della prima curva muove dalla coda del gruppo per risalire in poche battute fino al lato di number one Italia ora raggiunge anche Penelope S e va deciso su Rustico Jet ad ottenere il via libera dopo mezzo giro Popolo Babba leader nei confronti di Rustico Jet e Penelope S number one Italia ologramma e Painkiller va nuovamente Sestetto in fila indiana con Popolo Babba che però è passato dalla coda del gruppo fino all'avanguardia questi gli 800 metri dai 100 ai 900 sono in 1 1 e 3 per Popolo Babba un po' meno ovviamente perché partiva dalla coda del gruppo Sestetto in fila indiana anche al passaggio con Popolo Babba che ora completa questi mille metri in 1 16 e mezzo quindi il ritmo complessivamente piuttosto buono considerando che stiamo parlando di una corsa per anziani di ultima categoria dopo un 15 al passaggio c'è ora una franzione in 15 e 4 per Popolo Babba sempre seguito da Rustico Jet e Penelope S number one Italia ologramma e Painkiller va nessuno ancora accenna a muovere all'esterno quando siamo al paletto dei 600 finali con Popolo Babba che comanda su Rustico Jet e Penelope S number one Italia ha perso qualche battuta ologramma i primi quattro in leggero vantaggio sugli altri due siamo al miglio raggiunto in 2 1 e 1 da Popolo Babba che però non riesce a staccare da Rustico Jet e Penelope S che entrando in retta d'arrivo accendono a spostare poi number one Italia Popolo Babba la corda Rustico Jet e la sua scia Penelope S che sposta in anticipo su number one Italia Popolo Babba che allunga in vantaggio mentre Penelope S aggredisce Rustico Jet e lo sta rimontando per la seconda posizione poi number one Italia nel finale Popolo Babba che controlla e vince senza patemi nei confronti Penelope S mentre Rustico Jet forse salva il terzo da number one Italia aspettiamo le immagini del replay per essere più precisi circa il terzo piazzamento sul mio cronometro ho due trenta due e due per gli ultimi duemila metri si parla quindi di una media nell'ordine dell'uno e sedici o un e sedici appena abbondante per Popolo Babba e Alessandro Lezzo il numero tre al primo posto in questa terza di Capannelle Penelope S numero sei buona seconda mentre la lotta per il terzo vede Rustico Jet all'interno che dovrebbe essere sfuggito a number one Italia dovrebbe essere tre sei quattro l'arrivo ufficioso della terza di Capannelle quanti costano questo ? Grazie a tutti